È stata presentata nei più grandi saloni d'auto, gli spot hanno fatto il giro del mondo ed ora è pronta per il grande pubblico. La 500X, l'auto della svolta della Fiat, è la protagonista di questo fine settimana, con un porte aperte nelle concessionari Fiat per i test drive. La nuova dimensione X della 500, che fonde stile, comfort e prestazioni rigorosamente made in Italy, in questo weekend si può conoscere da vicino e provare su strada. Il gruppo Ecoliri, nelle sue sedi, questa mattina ha spalancato le porte ai tanti curiosi ed appassionati di motori. Devo dire innanzitutto, finalmente, aspettavamo da tantissimo tempo. Perché? Perché rappresenta il nuovo ciclo dei prodotti Fiat e soprattutto perché è prodotta in Italia ed è una vettura per il mercato mondiale. Dopo tanto tempo abbiamo acquisito anche dei contratti prima ancora dell'uscita della vettura. Ecco, questo è un bel segnale veramente. Numerose le versioni per soddisfare le esigenze di tutti i clienti. Il SUV prodotto nello stabilimento di Melfi è disponibile in 5 allestimenti, 4 motorizzazioni, 3 trazioni, 3 cambi, 8 disegni diversi per i cerchi in lega e 12 tinte di carrozzeria. Ci sono vari allestimenti e ci sono dei prezzi decisamente concorrenziali. Oltretutto delle motorizzazioni che sono accessibili a tutti perché parliamo di un 1.4 benzina accompagnato anche da un 1.6 benzina. La prima di 140 cavalli di potenza turbo, la seconda con 110 cavalli e poi accediamo ai motori diesel, un 1.6 da 120 cavalli, il famoso multijet e il 2.6 da 140 cavalli anche con trasmissione automatica. La prima trasmissione automatica per un crossover di questa categoria è addirittura a 9 marce. Chiunque può venire in qualsiasi momento a provare le vetture. Ne proviamo qualcuna, Davide? Ma molto volentieri, Martina. Qual è il modello che stiamo guidando e quali altri invece si possono provare? Adesso stiamo provando la 1.4 turbo da 140 cavalli, quindi un motore di benzina molto brillante, in allestimento cross. Ma in prova ci sono anche le 1.6 multijet da 120 cavalli con allestimento lounge e la 2.140 cavalli cross plus, il massimo allestimento, 4 rode motrici con il cambio automatico a 9 marce.